Due persone vivranno all'interno della vetrina di un negozio per 24 ore per una settimana. Il negozio Renato Tessuti di Arezzo è stato scelto per questo gioco che attirerà la curiosità di tanti e che sarà visibile sul web. Dal 3 al 10 novembre ci sarà un evento particolare, siamo i primi in Italia con questa novità, la ditta Downstep che produce più mini di grandissima qualità ha scelto noi come negozio per questa cosa particolare, particolarissima, vivranno due persone in vetrina per una settimana, una sorta di gioco dove queste persone verranno coccolate, parteciperanno a dei giochi e apprenderanno anche quella che è la storia, la bellezza di Arezzo perché chiaramente anche Arezzo farà la sua parte in questo evento. Ho detto che potranno un'ora andare in hotel poi a farsi la doccia. Sì, qui in negozio la doccia non l'abbiamo quindi probabilmente verrà concesso di andare nell'hotel qui accanto per rinfrescarsi perché chiaramente sette giorni senza farsi una doccia dovrebbe essere abbastanza difficile. Per voi è un'esperienza particolare? Ho detto subito sì perché è un'esperienza diversa anche per noi, è una cosa simpatica, almeno perlomeno si evade dalle solite formule pubblicitarie e poi devo essere sincero ho pensato anche ad Arezzo perché mi hanno proposto appunto di sviluppare una certa promozione per la città stessa e l'ho colta al volo questa cosa.